Come collegare e connettere così un microfono direttamente attraverso gli altoparlanti, in questo caso le cuffie, quindi se le tue cuffie dispongono così di un microfono e non riesci a connettere così questo dispositivo sul tuo computer, in questo caso andiamo un attimo su impostazioni audio, tasto destro sopra, impostazioni audio. Teniamo così la scheda aperta, scendi fino a giù fino a trovare altre impostazioni audio, se non riesci a trovare così questa scheda puoi direttamente andare sul pannello di controllo e cliccare su, andare qua sopra e scrivere audio, cambia impostazioni, scheda audio, clicca qua sopra e ti aprirà questa schedina. Ovviamente se vai su registrazione qui trovi tutti i microfoni, questo è il microfono che sto utilizzando ora per parlare, un microfono a parte, è il microfono delle cuffie, è questo qua, che appartiene a Realtek Air Audio. In questo caso vai anche sul tasto destro su start, su gestione dispositivi, vai direttamente su input e output audio ed eccolo qua, altoparlanti, Realtek Air Audio. In questo caso se riscontri un problema qua sopra, tasto destro sopra, aggiorna il driver. Quindi in questo caso visto che non ho collegato il microfono delle cuffie, ha una doppia uscita quindi sia per l'audio che per il microfono. Quindi adesso vado un attimo ad attivare il microfono che poi apparirà qua. Come puoi vedere è uscita così la linea in ingresso perché ho inserito così l'altro cavo delle cuffie, nell'altro cavo, nel buco dove sta la parte del microfono. Me l'ha dato e dice non collegato. Quindi in questo caso, chiudo un attimo questa schedina, altre impostazioni audio, registrazione. Linea in ingresso e me lo fa uscire qua sopra, linea in ingresso ed eccola qua. Quindi è uscita fuori la linea in ingresso di Realtek Audio di questo qua del microfono e poi abilitarlo e disabilitarlo. Mi raccomando controllate bene dove collegate il vostro cavo per il microfono proprio dietro alla scheda madre in quei sei buchi che ti ritrovi proprio dal computer. Quindi collega bene il cavo e vedrai che hai collegato così il tuo microfono sulle cuffie. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!